Al Klimaus per presentare le novità legate all'acustica, la prima linea è RumorBlock, sono dei sistemi per insonorizzare i fori di facciata, hanno sicuramente il plus rispetto alla concorrenza delle alte performance di insonorizzazione, infatti raggiungiamo e superiamo tranquillamente i 50 decibel. La seconda linea è la storica ormai acustica sistemi, questa linea ci sta dando grosse soddisfazioni soprattutto grazie a un prodotto novità, il TXT, un cascame di tessuti, lana, seta, lino e cotone rendono performante un materiale sicuramente adattissimo in ogni situazione. La terza linea è la novità per eccellenza, cioè i pannelli per la fonoassorbenza, questa linea chiamata appunto Phonolook, declinata in design e solution, sta dando delle ottime soddisfazioni sia come fatturato ma soprattutto come immagine aziendale.